a isa penso di aver trovato il fungo dove sei trovato ovvio dio tag vieni dove sei finalmente dopo di qua di qua finalmente dopo secoli l'abbiamo trovato e qui vedi no allora questa pianta siamo riusciti finalmente questa pianta ci serviva dopo secoli perché ci serviva per la nostra carburante per il carburante della nostra macchina oltre ecco prendi prendi bravo ora basta solo laura lasciamo la pianta ecco come usciamo da sta giungla siamo entrati di qua vedi deficiente doveva andare di cosa sappiamo che è di qua che siamo arrivati credo penso di sì oddio guarda in alto tag c'è un una farfalla del cioccolato dolce un po vi prego chiamate un medico però bravo è questa giungla c'è una pianta c'è una pianta attento a isaac sono i guardiani stanno cercando di ucciderci perchè gli abbiamo fregato la pianta segreta guarda come ballo con questo guardiano c'è una pianta attento a isaac soffre dei sacchiti e puzza non fare come lui di anche tu ma vai a cagare E quanto sto andando Andiamo avanti che meglio Andiamo di qua Oh ecco ecco è lì in entrata Credo Entriamo Mi dice apri Cioè hanno chiusi dentro Dobbiamo trovare la chiave Aspetta aspetta fermo Dobbiamo trovare la chiave Per scappare da sto posto E stiamo attenti alle guardie che potrebbero ucciderci Perché queste maledette guardie non so se lo sai Ma ci hanno Nebbia 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 agli articoli più vicinando sale E sotto il maestrale Oh qualcosa Via Ce l'ho circondato corri via tag Corri via tag Tag corri via Corri via Corri via Corri via Corri via tag Se mi curi Corri via Ti sto curando Sono medic Ma se io non mi posso curare Dicono Ci penso io Piùm 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 Andiamo dentro sto nebbione Vai Stiamo molto attenti Perché in questa zona Potrebbero esserci dei guardiani Che c'è Qua che camminata figa Sì sono un vecchio che picchia col bastone Andiamo 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 No Ha traslato! Ha traslato! Ha fatto la traslazione! Ho fatto la lampshake! Sembra di carta! Sembra di carta quando la... Un'altra pianta qui, prendiamo... Continuiamo a prendere un po' di aura assassino. Com'è che si prende? Com'è che la prendi così? Oh! Perfetto! Saremo pro quando torneremo su Gmod! Oh no, c'è un altro, c'è un altro! Aiuto, aiuto, aiuto! Ci metto un anno a salire, quindi faccio dei giretti finché non inizio ad attaccare e poi scappo! Ah! Mi ha ucciso! Ti curo! Glug... No! Tug! Come faccio io da solo? C'è un giga... È morto! L'ho ucciso, va bene, tag! Sei inutile! Lasciamo B, Isaac! Il problema è che c'ho soltanto due bevande alcoliche ancora, cioè volevo dire ancora due fiaschette, quindi... Due bevande alcoliche? Ma perché le bruci? Bevevi così? Non è che le bruci, sai te che ti fai colpire come un mausoleo! Tag, c'è un'allucinazione! Sei un'anima! dispersa... Cos'era la poesia di Tag? Eh, luce... Colgeline... Oh, sono un poeta! Ma che cazzo? Un passato securato! Qui, qui, qui! Ti qua, dico! Ho un oggetto! Lo sapevo io! Eh, eh, cos'è? È un cavaleonte con due teste! È un cavaleonte con due teste! Sì, l'ho visto! Ah, sono avvelenato, merda! Yow! Yow, stiamo registrando! Oh, ok! Sto a dire, yow! Isaac, ti stai friggendo, Isaac, ti stai friggendo! Mangio, mangio! Nom, nom, nom! A posto, sto bene adesso! È l'antifrittura! Scaliamo, poi vediamo! Magari potrebbe esserci qualcosa di brutto! Chi lo sa! La bella tartaruga! Siamo vicini al gelato! Siamo vicini al gelato col cono molto salato! Ma quello mi sembra più una farfalla che un gelato! Vabbè! Vabbè, te pensi a quelle cose che pensi te! Io non ho intensità di pensare! Non mi fa passare! Non mi fa passare! Ok, sono passato! Come ti fa passare? Oddio, avevo ragione, allora! Oh mio Dio! Oddio, sto vedendo giù! Aiuto, io inizio a fare ptium! 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 Non funziona, no! Il ptium non funziona! Non direi di un cazzo! Oh, 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 aia! A me non ha fatto niente! A me fa malissimo! Ma io non riesco a toccarla, come faccio? Non lo so! Aia, aia, aia! Ma la smetti di farti... Mi fa malissimo, Tag, non è colpa malissimo! Mi copro! Oh, oh! Ma... Ma fossi vero che te non perdivi! Sei un fantasma! Ti fanno attraverso i colpi! Guarda che... Guarda! Non è neanche lo scudo! Non ti colpisce! Poi non mi ha cagato di strisce, non lo so! Ti ha cambiato di strisce, sì! Cioè... Mi raccomando, non farti con le cagare dalla striscia! Tranquillo! Perché è molto più striscia! Ti sto sparando! Con la freccia! Da qui sembra che stai facendo cose strane! Ti stai grattando il culo! Non fai... Non fai... Non fai... Ah, se ti ha migrato un altro po' Cioè, non farò fare l'assassina che mi sta uccidendo! E tal cosa fa si gratta il culo! Ok, la sua impostazione di combattimento, però tentano a morire! E mi raccomando, appena si abbassa, scatenate l'inferno! Ma non puoi farti uccidere, dai! Allora, sono imperabili questi colpi, vuoi provarci te? Ma a me non arrivano! Ma bravo! Basta, 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 così! No! Appena si abbassa, ti giuro se non la uccidi, ti mangio in due! Ti mangio! Ah, l'ha schivato! Mi serve spazio per schivare quello che te non puoi schivare! Guarda, no! Guarda! Oh, se sta passando! Vai! Scedela! Paccala! Distruggila! Ammazzala! Devastala! Ok, fanno schifo i nostri attacchi, pensavo fosse meglio! No, in realtà, guarda, li stiamo togliendo un sacco! Continua ad attaccarla! Continua ad attaccarla! Vai! No, sta esplodendo! Scappa! Ma che cazzo... Vedi che ha fatto male anche a te! Manco... Tag, io so schivare quei colpi! Manco... Manco giardissi! Ma sei morto! Pezzo di merda! Ma diventa te umano! Dimenti te umano! Quasi quasi! Diventa te umano, vai! Prova a schivare quei colpi di merda! Non ci riuscirà neanche moruto, guarda! Ok, ci rivediamo al falò, allora! Questa non è la... Mi raccomando, fatevi colpire! Allora, sto lontano dalla farfalla, ecco! Stagli vicino a te! Io me ne frego di queste cagate! Ma a me non... Io non la posso colpire! Uff! Oh no, ce l'ha ancora con me! A me non caga! E' come non fate uccid... Guarda! Guarda! Si sta avvicinando! Colpiscila! Colpisci... Ma che cavolo stai facendo? Ciao! La carezza proprio! Ma che basta! Diventa te umano! Vai! Prova a schivare quei colpi di merda! Non ci riuscirà neanche moruto, guarda! Challenge accepted! Ora abbiamo fatto a cambio! Così attacca a me, non a te! E così io mi crepo! E la massa sta per questo, eh! Allora, vediamo se riesco a pararmi stavolta! Sono ultra leggero! Trovo così veloce che non mi può colpire nessuno, bitch! Si attacca a me! In alto sei! Oh, ma posso colpirla! Schivata! Sta sca... Ma sta colpendo in alto! Guarda! Sta colpendo in alto! Eh no, no, è un bug! A me sta colpendo in realtà! Qui io vedevo questo proprio! Ah, ok! Io la sto colpendo, tranquillo! Ecco, ecco, ecco! Ma dai! Ma con me ci aveva messo 30 anni in più! Vai, vai, tac, tac! Ma dove sta? Vai, alla barta! Vai! Ah! Via, via! Stai, via! Via! Vedi, così siamo molto più stabili, perché a me non mi prende mai! Oddio, cos'è quel raggio? Raggio, raggio, se è così! È iperraggio! È iperraggio! È iperraggio! Ma è che ha colpito me! A me no! Ok, ho finito i miei colpi! Stai scherzando, spero! È il momento di ucciderla! Basta soltanto ancora un colpo! È che scende! No! Vieni qua, vieni qua! Vieni qua! Aia! Curati, curati, curami, 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 curami! Glug, 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 glug! Dai, vieni qua, vieni qua! Vieni qua, frafalino del cavolo che avrai di sicuro la chiave per il nostro portone per poter uscire! Dai, 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 dai! Ma dai! Sti attacchi così spumosi! Aia! Attacchi spumosi! Ancora, dai! E basta! Vieni qua! Sìììììììì! Oh, finalmente! Dai, di carico, di carico, di carico! Animo a farfalla, da me l'ora! Adesso vado a prendere subito le mie cose che servono! Ah, finalmente abbiamo battuto sto boss! Ehm, Isaac? Dove sei? Ah sì, andrò a piantare qualche piantino! Hmm, ma prima non avevo visto una stranissima porta! Ah, eccola! Hmm, vediamo se si apre! Ah, vabbè, aspetto che arrivi Isaac! Ehm, mi preoccupo di questo libro, lo metto in una parte! Allora, posso fare un funghi? I funghi li posso...